Salve amici e amiche mie, innanzitutto buon anno. Iniziamo questo nuovo anno insieme con delle ricette nuove e soprattutto con delle novità. Le novità riguardano due cose importanti che ho già preannunciato sulla community che sono la ricetta in diretta e la bc della cucina. Ora vi spiego come funziona la ricetta in diretta. La ricetta in diretta non è altro che un video, un video in diretta dove prepareremo un piatto insieme. Questa diretta verrà fatta ogni 15 giorni di venerdì sera. La scelta dei piatti questo lo deciderete voi. Sarete voi a deciderlo. Io metterò sempre sulla community una lista di pietanze che voi voterete e quello più votato sarà il piatto che noi andremo a preparare. Una volta scelto il piatto io 2-3 giorni prima vi darò gli ingredienti da preparare per poter poi fare insieme questa ricetta. Per quanto riguarda l'orario è la stessa cosa anche esso anzi è già stato messo sulla community e quindi voi sceglierete l'orario. Una volta scelto l'orario quello sarà definitivo per tutte le altre ricette che poi andremo a fare anche in seguito. Spero che sia stato chiaro questo messaggio e fatemi sapere sui commenti se questa cosa è di vostro gradimento. Io vi aspetto a queste belle iniziative e adesso fatemi lavorare perché c'ho da fare. Un bacio e una rivedersi a tutti. Adieu.